buongiorno buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video tutorial dove andremo a vedere il power squat jump un esercizio ideale per rinforzare la forza esplosiva delle tue gambe e migliorare così la tua partenza e la tua virata o la tua elevazione nel caso in cui magari giochi a prestazioni come si esegue il power squat jump ci posizioniamo a terra con le ginocchia in appoggio da questa posizione seduti sui talloni andremo a spingere forte verso l'alto per appoggiarmi da terra per poi saltare in questo modo e vado a saltare quindi ci andiamo a posizionare a terra seduti sui talloni aiuto anche le braccia spingo forte e vado a saltare verso l'alto è importante quando vai a spingere forte quindi a svanciare anche con le braccia per portare in alto le ginocchia quindi esserrando a salire di posizionarti con le cosce in parallelo a terra per poi spingere e saltare vediamolo anche dalla posizione laterale quindi passo da seduto da qui salto e spingo forte con tutta la potenza di nuovo mi siedo sulle ginocchia e spingo forte giù da qui spingo forte verso l'alto e vado a spingere tutta la mia potenza questo è un ottimo esercizio battiti salvo per migliorare la tua forza la potenza ideale per la violenza per abituati a raccogliere le gambe al petto e spingere forte dal muro puoi iniziare con ripetizioni serie magari 3 serie da 3 ripetizioni ma concentrarti a dare il massimo e spingere la mente con tutta la tua potenza recupera tanto quindi fai un recupero magari un minuto e 32 minuti tra una serie l'altra per iniziare spero che l'esercizio ti sia piaciuto mettilo in pratica fammi sapere qui sotto i tuoi feedback e le tue sensazioni io ti aspetto nel prossimo video tutorial per continuare ad aiutati a migliorare le tue prestazioni con altri esercizi ti saluto ciao e stai com'è ciao